Per celebrare il 284esimo anniversario della nascita di Giovanni Paesiello, gli Amici della Musica hanno organizzato una rassegna musicale dedicata al grande compositore Tarantino. Quattro appuntamenti distribuiti tra il 9 e il 17 maggio, due le location interessate fondamentalmente, il Cappellone di San Cataldo e il Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Paesiello Spring, un'occasione per continuare a celebrare il grande compositore Tarantino. Già la seconda edizione, offriamo la possibilità dei giovani artisti del territorio di esibirsi e farsi conoscere al grande pubblico. Quattro gli appuntamenti. Quattro iniziamo il 9 maggio, che è il giorno proprio della nascita di Paesiello, con due appuntamenti. Uno nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, con il pianista Flavio Tozzi, mentre alle 20 nel Duomo di San Cataldo, il quartetto d'archi del Conservatorio Paesiello, che si esibirà durante il Cataldus d'Argento. Quindi doppio appuntamento per il 9. Poi il 14 sempre al Salone degli Specchi ci sarà la pianista Chiara De Quarto e il 17 maggio chiudiamo sempre nel Salone degli Specchi con un duo eccezionale, che è quello di Carlo Angione al pianoforte e Lorenzo Lomartire al violoncello. Sono molto contento e onorato di partecipare a questa rassegna per valorizzare Paesiello. Avremo anche modo di riscoprire le pagine compositive più belle del compositore ionico, in quanto studente del Conservatorio penso sia quasi un dovere riscoprire appunto le pagine del nostro compositore. È una grande opportunità per i nostri giovani musicisti darantini di potersi esprimere. Invitiamo tutti quanti al Salone degli Specchi a partecipare con grande interesse ed emozione a questa rassegna. È importante la collaborazione fra il Conservatorio e il mondo dell'associazionismo, che ha questa spiccata sensibilità nei confronti della musica? È importantissima, lo dimostra l'attività che svolgiamo con l'associazione Arcangelo Speranzo di Taranto, che risale a tantissimi anni fa. Abbiamo partecipato in tantissime occasioni, continuiamo a farlo, siamo molto lieti di farlo. Facciamo quell'entusiasmo, facendo partecipare bravissimi allievi, nonché bravi docenti.